a porca di house ciao ragazzi la copertina è firmuta devo fare solo e vabbè devo fare allora questo è un cappello è un cappello non crine di cavallo guardate che bello il mio cappellino che mi metterò qui allora porca di house io volevo dirvi volevo dirvi che a porca di house allora non c'ho la sigla la sigla me la faccio da bene wonderful avete notato che quando le persone si sentono un po' su cioè nel senso un po' notorious notorious tra virgolette parte con le station vai con le station luce reggi microfono parte con le station poi ciglia ciglia o ciglietta allungation tatuation e tatuaggio alla bocca allargation alla bocca attiration di qua cioè alla fine si capisce quando li vide no li vide che poi a filtro nella foto c'è quasi quasi vedano io ma ti somigli ti somigli come per dire cioè a porca di house facciamoci un selfie facciamoci un selfie tu ti fai il selfie sempre quello a lei tutti tirato e tutti ciglia quindi ah wow già scompare allora ragazzi no io volevo dire che se non si è ci si può fare cioè se essere poi ricacciamo essere non essere questo è il problema se sei se sei non devi apparire sei e basta sei 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 sette otto nove dieci e undici e e e e e e e e